Sono una settantina le aziende che hanno dato la loro adesione alla 31esima edizione di Abitare Oggi, Fiera delle Edilizie e dell'Architettura, in rappresentanza di oltre 100 marchi provenienti a Lanciano da diverse regioni italiane. Segno questo del ruolo che la Rassegna ha consolidato in tutti questi anni, interpretando le esigenze e le richieste di un mercato in continua evoluzione, ha detto in conferenza stampa di presentazione il presidente Franco Ferrante. A caratterizzare la prossima edizione, per tre giorni, dal 28 febbraio al 1 marzo, saranno la sostenibilità, la tutela del territorio e dell'ambiente e la sicurezza. La 31esima edizione si caratterizza per un'edizione di rinnovamento, con diversi cambiamenti e soprattutto con buone prospettive di innovazione anche future. Vi è stato un rinnovamento per quanto riguarda delle aziende espositive, che si sono aggiunte aziende nuove, particolari, che provengono dalla maggioranza delle regioni italiane. Nello stesso tempo si è cercato di caratterizzare questa manifestazione, questa fiera, soprattutto nello spirito di rispetto dell'ambiente e rispetto della sicurezza. Sono due temi che a noi sta molto a cuore e che saranno quelli i temi principali e discussi da tutti i tecnici che incontriamo. E si sta rivelando costruttiva anche la rinnovata collaborazione con la Camera di Commercio Chiti Pescara, rappresentata in conferenza stampa dal Vicepresidente Lido Legnini. Il recuperato rapporto con Lanciano Fiera, ha detto il Vicepresidente, sta dando risultati positivi. Le fiere, soprattutto queste di Lanciano, che hanno una storia così grande e poi sono anche eventi di qualità, non possono non riguardare appunto Camera di Commercio. Io ho lanciato anche un appello relativamente al fatto che la stessa Camera, ma comunque, come dire, sia su Chieti che su Pescara abbiamo delle infrastrutture che potremmo mettere a sistema. Io credo che, ecco, sistema è una delle parole chiavi del futuro insieme ad altre poche, per cui non può essere altrimenti. Io ho cercato di riallacciare questi rapporti, ci siamo riusciti già, in occasione di fiere ed eventi precedenti abbiamo portato la nostra fattiva collaborazione con un incoming molto importante. Questa di abitare oggi è un altro appuntamento sicuramente importante, ce ne saranno altri, insomma, speriamo in un futuro proficuo.